Io sto entrando all'interno di una città colpita da un terremoto. Andiamo per lustrare tra le macerie, a cercare di sentire e di captare delle voci che chiedono aiuto al di sotto di queste casse collassate, crollate. La realtà virtuale immersiva per l'addestramento reale dei vigili del fuoco, chiamati a intervenire in situazioni di emergenza dopo crolli causati dai venti sismici. Agire con tempestività, muoversi in sicurezza tra macerie e case di roccate, luoghi sconosciuti, significa salvare vite e limitare danni. Da oggi la formazione dei pompieri si arricchisce di scenari virtuali che la ricerca scientifica trasforma i realistici grazie al progetto Via Rescue sviluppato dall'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Sant'Anna. Riguarda l'utilizzo di ambienti virtuali altamente immersivi in cui l'operatore viene immerso e ha la possibilità di avere esperienze, quindi di poter visualizzare lo stato degli edifici subito dopo il sisma. Un sistema di addestramento più sicuro, intenso ed efficiente che va a completare gli allenamenti tradizionali. Oltre all'attività di formazione vera e propria ci consente di assicurare anche il mantenimento di queste prestazioni, quindi ci consente di avere operatori pronti a qualunque tipo di scenario.